siamo qui con il nostro portierone grande ale zollo partita combattuta equilibrata sui primi tre tempi dove vedo che il cdc attaccato ma non tirava in porta e quando l'ha tirato tirava contro portiere e qui abbiamo il nostro portiere chiediamogli un'impressione sulla partita a caldo è vero era molto equilibrata primi tre tempi tutti zero zero e il secondo era molto combattuto con il recupero finale del cdg quindi niente la partita è finita 2 a 2 volevo chiederti visto che sei il primo che inaugura le interviste cosa ne pensi di questa iniziativa del gruppo del cdg 2011 ci sto secondo me questa iniziativa ci sta bene volevo chiedere che cosa pensi per il futuro per il futuro penso di diventare un calcettore magari un portiere portiere a noi ci piace quindi va bene così niente allora come prima intervista prova io direi che va bene grande ale e niente ci vediamo alla prossima intervista chiudiamo qui a voi studio